Bentornati sul mio canale o per i nuovi iscritti, ciao io sono Lorenzo ed oggi vi propongo la ricetta della mia torta fiocco di neve il doge che ho preparato nel menù di Natale 2019 con Benedetta del canale di Fatto in Casa Benedetta buonissima e siccome voglio prepararla anche quest'anno mi risporvero con voi la ricetta Grazie a tutti 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 Grazie a tutti